Buongiorno a tutti, io non vi ho mai raccontato una cosa, che qua a Palazzo Valdina ho il mio ufficio e lo condivido con quattro parlamentari. Prima c'erano uno bellissimo a Palazzo Marini, Piazza San Silvestro, ero da solo, bel terrazzo, vista, Piazza San Silvestro. Sapete perché condividiamo l'ufficio con quattro parlamentari? Perché gli abbiamo fatto saltare gli affitti d'oro, l'abbiamo fatto il primo anno. Io mi ricordo quando ci dissero non si può fare, perché ci sono i contratti già scritti. Me lo ricordo perfettamente. Mi ricordo che ci fu un decreto e noi riuscimmo a costringerli a votare questa norma di giustizia, appunto far saltare gli affitti d'oro, minacciandoli di farli restare a Natale o a Capodanno in aula, consigliandoli di prepararsi lenticchie e cotechini. Così ce l'abbiamo fatta. No, vi dico questa roba, perché già io mi immagino, Grasso Boldrini, i partiti politici, andate in intervista a Renzi, Salvini, diranno tre cose. Ripeto, questo è un atto di rinuncia non formale e sostanziale. Allora, con questo noi scriviamo appunto al Presidente Grasso e al Presidente Boldrini che non vogliamo la pensione privilegiata, che vogliamo andare in pensione come tutti i cittadini italiani, ovvero vogliamo che l'applicazione della legge Fornero sui parlamentari, dato che ce l'hanno bocciate queste proposte, almeno vogliamo che venga applicata su di noi. Non perché ci piaccia la legge Fornero, che è una schifezza assoluta, ma perché forse, sei anni fa, ci fosse stata una forza politica con il Movimento 5 Stelle, capace di dire queste stesse cose, probabilmente la legge Fornero non sarebbe passata. Perché se questa legge fosse applicata pure ai parlamentari, state tranquilli, non l'avrebbero votata. E questo è il concetto enorme del Movimento. Noi crediamo che nel momento in cui, qui dentro, si vive una vita normale e non c'è un distacco rispetto al mondo fuori, aumenta la qualità delle leggi e la bontà delle leggi in favore dei cittadini fuori. Per questo noi rinunciamo agli stipendi, tagliamo gli stipendi, rinunciamo al finanziamento pubblico. Per questo, non perché pensiamo che con queste azioni si risolveranno tutti i problemi di cittadini italiani. No, anche se, andateglielo a dire, io me li ricordo, ai populisti, andateglielo a chiedere a tutti quei ragazzi che hanno trovato lavoro, anche grazie al microcredito, appunto alle imprese che vengono sostenute grazie agli stipendi tagliati dai deputati e dai senatori del Movimento 5 Stelle. Il concetto è che nel momento in cui io mi comporto in un determinato modo e vivo una vita molto più reale e normale, non perdo di vista le esigenze reali dei cittadini fuori, che questi personaggi le hanno già perse di vista, ma anche è colpa loro, vivono proprio in un mondo del tutto diverso, neanche se ne rendo un conto, ma si vede da certe risposte, no io me la sono meritata, il vitellizio è giusto, li vedete, sono anche onesti nella loro disonestà. Con questo noi chiediamo appunto la legge Fornero ai parlamentari. Non hanno votato la nostra proposta, la vogliamo su di noi, è possibile, ma vi rendete conto che il mondo che è diventato, noi dobbiamo pregare Grasso e Boldrini di applicare la legge Fornero ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. E sapete che diranno, vi anticipo, non si può fare, manca la legge, è populismo, pura demagogia. Questo è quello che diranno. Renzi dirà, sono d'accordo, infatti c'è la legge Richetti. E Salvini dirà, sono d'accordo, infatti i miei parlamentari hanno votato a favore dell'applicazione della legge Fornero anche in questa legislatura. E però perché non vanno a dire ai loro parlamentari di fare la stessa cosa? Immaginate questa situazione, no? Salvini oggi va in giro a dire, ah la Lega è sotto attacco della magistratura, abbiamo tutti quanti contro. Pensateci, no? Pensate proprio il mondo alla rovescia. Cioè chi ha preso quattrini pubblici e li ha spesi male o se li ha intascati, che fa conferenze stampa per dire abbiamo tutti quanti contro. E noi che non vogliamo quattrini pubblici facciamo conferenze stampa per presentare degli atti di rinuncia, chiedendo appunto a Grasso e Boldrini di trovare una soluzione. La soluzione c'è. Non ci venissero a dire stronzate. Perché io sono quattro anni e mezzo che sto qui dentro e quando hanno applicato la ghigliottina mi hanno parlato di auto di Chia. La ghigliottina non era mai stata applicata nella storia della Repubblica Italiana, non avevo mai zittito l'opposizione, il Movimento 5 Stelle, come hanno fatto durante quella schifezza del decreto sull'Imo Banca d'Italia e ci hanno detto si può fare, qui c'è l'auto di Chia. Traduzione dell'auto di Chia, facciamo come ci pare. La Casa delle Libertà. Camera e Senato. Il canguro al Senato, ve lo ricordate, e gli emendamenti cancellati. C'è l'auto di Chia. Noi possiamo fare come ci pare. Allora, l'auto di Chia, applicatela anche oggi. Permettete al Movimento 5 Stelle di andare in pensione come tutti i comuni mortali. Si può fare. Io voglio vedere la Boldrini, Grasso, dire a Redi Unificate. Mi dispiace però, proprio non possiamo permettere a quelli del Movimento 5 Stelle di andare in pensione come la legge Fornero. Non possiamo. Ma ci proveranno, perché ogni azione che fa il Movimento 5 Stelle in questo senso non soltanto rappresenta, poi loro pensano soltanto al consenso. Io vi do la mia parola d'onore che per me questa è giustizia sociale. Il consenso non c'entra niente. Al di là del fatto che poi una cosa giusta produce anche consenso, viva la faccia, il loro meccanismo malsano li fa ragionare in questo modo. Se gli permettiamo di rinunciare al trattamento pensionistico privilegiato, poi noi andiamo nei nostri territori e ci sarà qualcuno che gli dirà scusa Renzi, Boldrini, Salvini, Brunetta e compagnia cantante, ma perché non lo fate pure voi? Non possono più dire, non si può fare. Perché non lo facciamo. La stessa cosa con gli stipendi. Quanti cittadini in questi quattro anni li vanno a dire, ma perché non rinunciate agli stipendi? Loro se se la possono capare, come demagogia. I problemi sono altri, no? Altra risposta straordinaria. I problemi sono altri. Però ci sarà sempre qualcuno capace di dirgli. Guardate che quelli li fanno. Io manco li voto quelli, però questa roba la fanno. Per quello che ci vogliono ostacolare. E ricorderò perfettamente quando riuscimmo ad ottenere con un emendamento, se non sbaglio, al Senato, la creazione del fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese, dove versare i nostri stipendi tagliati e tutte le diarie che non avevamo speso. La legge c'era, ma mancava il decreto attuativo. Cioè praticamente non creavano Liban, non aprivano questo conto dove noi versavamo i soldi. Perché? Perché se l'erano dimenticato? No. Perché appunto questa azione li avrebbe messi nel disastro più assoluto. E noi che abbiamo fatto quattro anni fa, abbiamo occupato e dormito con le tende, io mi sono preso la febbre quella sera, davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per chiedere gentilmente al Ministro dell'Economia e delle Finanze di mettere una firma su un decreto attuativo e permetterci a noi di restituire i nostri soldi. Ma vi rendete conto che il mondo ha la rovescia? Roba che se li avessimo portati di notte con delle varigette scure, con banconote non segnate, li avrebbero presi sicuramente. Questo è il mondo alla rovescia, che noi stiamo provando faticosamente, sapendo che ci riusciamo. Perché questa roba si può fare, si può fare. Poi se creeranno qualsiasi ostacolo, e lo faranno, perché tutto quello che hanno fatto in questi quattro anni e mezzo è servito a ostacolare il Movimento 5 Stelle. E lo faranno pure con la legge elettorale quando metteranno le coalizioni. Rielezioni Napolitano, porcate varie, ghigliottina, vedrete le leggi elettorali pro grandi coalizioni. Vedrete. Nella loro testa l'unica obiettivo è contrastare il Movimento 5 Stelle. Anche quando il Movimento 5 Stelle chiede soltanto l'applicazione della legge Fornero ai propri parlamentari. Questo sarà l'obiettivo. Però li voglio vedere. Ci proveranno? Sì, come proveranno a far saltare i vitalizi in Senato. Già lo stanno facendo. L'avete visto? Ci proveranno? Sì. Ma tanto è una battaglia che sono destinati a perdere. Perché o nelle prossime settimane, applicando questo, questa nostra richiesta formale, o nei prossimi mesi, quando speriamo di avere la maggioranza del Paese, questi privilegi medioevali li faremo saltare. Come già ne abbiamo fatti saltare tantissimi. sanno che sono comunque, stanno dando proprio ultimi colpi di coda di animali politici morenti. Nella loro logica cercano anche di arraffare i più privilegi possibili perché sanno che questi qua arriveranno. e questa pure è la loro mentalità. Io arraffo il più possibile, prendo, attenzione, aspettiamo quattro anni, sei mesi, un giorno, il 15 settembre. Vi dico, ma quante volte, ve l'abbiamo detto mesi fa, e questi non sarebbero mai andati al voto prima di quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura. E' normale, ci hanno famiglia, ci hanno famiglia. Ecco, noi abbiamo dato l'ennesima dimostrazione di una enorme diversità, che non è che noi, ripeto, veniamo da Marte. Tutte le regole che ci siamo dati, aver rinunciato a tanti, tanti soldi, io più di 210 mila euro, che mi spetterebbero di diritto e mi servirebbero pure. Sì, come penso a tutti quanti voi, forse a qualche grande editora di Repubblica, un po' meno. Bene. Queste azioni ci sono servite per mantenerci con i piedi per terra. E' questa la grande sfida che ha vinto il Movimento 5 Stelle in questi quattro anni, in mezzo di legislatura. Siamo entrati in un modo, e che ne dica qualcuno, usciamo da questo palazzo nello stesso identico modo. Con le stesse identiche idee, non ci siamo fatti inquinare da questo sistema, proprio in virtù di certe regole. E per me è un orgoglio far parte di questo gruppo, che produce un documento del genere, che firmerà il nostro capogruppo Valente qui alla Camera, e poi al Senato ovviamente. E per me è un orgoglio sapere che c'è un gruppo che fa un'azione del genere. Dopo quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura. Grazie.